Sono quello che gli inglesi definirebbero un underdog. Non ho mai provato simpatia o vicinanza nei confronti dei regimi antidemocratici. Per nessun regime. Fascismo compreso. Contrava anche parlamentari Serracchiani, Verini, Lai e Orlando che andavano a incoraggiarlo nella... Io sono sempre dipinto come quello che ha i busti del Duce e ce l'ho, uno di quanto così. Se lei fosse disperato cercherebbe di raggiungere l'altra parte del mondo anche con questa... No, perché sono stato educato anche alla responsabilità. Quello che vuole fare questo governo è andare a cercare gli scafisti lungo tutto il globo terracolo. Alcuni interventi da qui a giugno del 2026 non possono essere realizzati. È matematico. Mi arrasa di quelli che vennero ucciso non erano biechi nazisti dell'SS ma erano una banda di semi pensionati altoadesini. Non possiamo arrenderci all'idea della sostituzione etnica. Però la lotta all'evasione fiscale si fa dove sta davvero l'evasione fiscale. Non il piccolo commerciante al quale vai a chiedere il pizzo di Stato. Assoluta condanna di ogni forma di surrogazione di maternità in quanto forme di commercializzazione della genitorialità lesiva della dignità della donna e dei diritti dei bambini. Le donne non si dovrebbero toccare nemmeno con un fiore. In realtà attarterò invece un argomento che è quello della produzione dei fiori. Sono 23 anni che faccio politica, la vede la mia faccia? Ce l'ho sempre messa. Serie televisive. Il messaggio sottinteso è sempre lo stesso. La droga è anticonformista. La droga fa bene. Ho ascoltato le storie espresse in questi libri che sono finalisti questa sera.